Sono Laura Antichi, volevo presentarvi Quiver per la realtà aumentata. È un'applicazione di realtà aumentata, come vi dicevo, che unisce la tecnica tradizionale del colorare i disegni con l'aggiunta di animazioni del disegno che è stato colorato. Ha una funzione molto motivante, attraverso l'animazione gli studenti potrebbero inventare storie e narrazioni, oltre che a visualizzare gli effetti dell'applicazione. I disegni da colorare sono forniti dal sito e devono essere stampati. Le attività previste hanno un effetto motivante e catturano l'attenzione e il gusto di fare, sicuramente adatti per l'inclusione. Le schede coprono ambiti diversi disciplinari, come la biologia, la geometria e il sistema solare. Il sito promette aggiornamenti delle proposte. Sono disponibili le app sia per iPad che per Android da scaricare sul proprio smartphone e tablet. Questo è il sito di riferimento di Quivera, visions.com. Come vedete vi dà tutte le istruzioni necessarie. ecco, e vi permette di raggiungere poi le applicazioni da mobile. in alto voi trovate tutte le istruzioni e soprattutto i pacchetti da colorare che possono essere scaricati e poi stampati e poi animati. ecco, ora vi mostro come funziona. ecco, ora vi mostro come funziona. ecco, ora vi mostro come funziona. Alice anima il robot. come vedete dal disegno possiamo arrivare al personaggio. questo è il disegno. questo è il disegno. Alice spostati. vai a vedere. e adesso vedremo il personaggio in 3D. ok. ecco, si è entrato il personaggio dal disegno. ti avvicino. ti avvicino. troppo.